Spesso nelle auto utilizzate quotidianamente per recarsi al lavoro ci sono almeno tre posti liberi che possono essere utilizzati per trasportare altre persone che condividono la medesima destinazione. Viaggiare insieme può comportare diversi benefici. Innanzitutto contribuisce a rendere il traffico più leggero e quindi più scorrevole. Limita l'inquinamento, libera parcheggi che possono essere disponibili per altri utenti, per altre persone ma soprattutto riduce anche i costi del trasporto stesso, quindi meno costi di gestione dell'auto, meno costi per l'acquisto del carburante. Tutti questi benefici non sono indifferenti e sono di carattere economico e sono anche di carattere ambientale ed è proprio per questo motivo che l'amministrazione comunale ha deciso di sviluppare un progetto per incentivare il carpooling e quindi la condivisione dell'auto rendendolo ancora più conveniente. In che modo? Offrendo alle persone che si costituiscono in equipaggio, un equipaggio deve essere costituito almeno da due persone, offrendo il parcheggio gratuito nelle strutture multipiano Vallona, Candiani e Oberdan che sono quelle presidiate da un operatore che potrà verificare l'effettiva partecipazione e adesione dell'equipaggio all'iniziativa. Al termine della sperimentazione l'iniziativa dura 4 mesi, da novembre fino a febbraio, gli equipaggi più virtuosi potranno anche ricevere i premi messi a disposizione dagli sponsor dell'iniziativa GSM, delle vedove Petroli, Coccozza e la BCC. Si tratta di abbonamenti gratuiti per il parcheggio che si possono utilizzare in un secondo momento presso tutte le strutture multipiano della città, buoni sconto sulla revisione dell'auto, sul lavaggio dell'auto e sull'acquisto del carburante. Le adesioni all'iniziativa sono aperte, a breve entrerà nel vivo. L'invito che rivolgo a tutti è quello di considerare questa proposta auspicando l'adesione. Maggiori informazioni possono essere reperite telefonando all'Ufficio Mobilità del Comune di Pordenone oppure visitando il sito www.pncarpooling.it. Sì, tutti possono aderire, indipendentemente dal fatto di essere cittadini di Pordenone, chiaramente anzi il progetto è rivolto più alle persone che da fuori città vengono a lavorare tutti i giorni in centro. Il progetto vuol costituire anche l'occasione per stimolare una riflessione rivolta a tutti, quelli che appunto si recono al lavoro quotidianamente con l'auto in città, una riflessione sull'opportunità di spostarsi in modo sostenibile. E proprio per stimolare questa riflessione, oltre che per promuovere l'adesione al progetto, il Mobility Manager si sta recando presso le aziende più grandi che operano, che hanno sede in centro città e che hanno dato la disponibilità ad ospitarlo per diffondere, per promuovere il progetto presso i loro dipendenti.